È fondamentale per lavorare sulle piattaforme social riuscire a catturare l'attenzione e questo possiamo farlo prevalentemente attraverso i video. I video riescono molto più del testo o delle immagini a veicolare un messaggio in maniera diretta. È importantissimo per veicolare questo messaggio riuscire a catturare l'attenzione dei nostri ascoltatori e dei nostri lettori nei primissimi secondi. Abbiamo dai 3 ai 5 secondi per riuscire a fare tutto questo. Uno strumento molto efficace è sicuramente rendere il video il più dinamico possibile, il che non vuol dire per forza avere un ritmo sostenuto, va benissimo anche uno slow motion, ma deve essere comunque in grado di catturare l'attenzione. Altro meccanismo importantissimo è quello di dotare il nostro video di sottotitoli, perché spesso ci troviamo a guardare una sequenza attraverso il nostro smartphone mentre ci troviamo al lavoro o sotto la metropolitana o comunque in un ambiente dove non abbiamo la possibilità di ascoltare l'audio. Quindi per far raggiungere il messaggio a tutti dobbiamo necessariamente predisporre dei sottotitoli o dei sottopancia. Vi do dei consigli molto semplici. Il video da condividere attraverso i social deve essere molto breve, quindi stare sotto al minuto. Per fare 20-30 secondi di un video di buona qualità girate almeno 10 minuti di video in modo da avere tante sequenze video e poterle mettere assieme. Per editare un video è sufficiente farlo da un'app da smartphone. Fare tutto da smartphone è possibile. Riuscire a filmare qualcosa anche con una qualità non eccellente. Riuscire a editarlo in tempo reale, riuscire a pubblicarlo quasi in tempo reale. Vi permette poi di essere i primi a far uscire questo contenuto e vi permette quindi di avere un numero di condivisioni maggiore. A presto e ciao a tutti!